Buon pomeriggio a tutti, oggi è martedì 7 marzo, sono le 14.30 e a un'ora e mezza circa dalle parole di Powell vorrei rispondere a una delle domande che si stanno facendo molte persone sugli indici europei e poi anche sugli americani. Ovvero, siamo saliti già tantissimo, da quando? Da questo minimo fatto il 28 di settembre 2022. Stiamo continuando a salire, le nostre analisi sono tutte corrette, quanto possiamo ancora salire sia su DAX che su Mib che è salito ancora più rapidamente rispetto al DAX? Allora la risposta ce la dà l'analisi evoluta per la quale sappiamo che un ciclo annuale dura al massimo 336 giorni. Quindi, andiamo a dare un'occhiata a quanti giorni siamo arrivati dai top? Se prendiamo questo secondo top, che mi piace di più di questo, siamo arrivati a 300 giorni. Quindi mancano al massimo 36 giorni di borsa aperta, prima di iniziare a vedere dei cedimenti e ho una finta a ribasso con di nuovo rialzo, si chiama raccordo inverso in questo caso in gergo tecnico ma sappiamo già quanto può durare tra i 24 e i 43 giorni, oltre ai 300 attuali che possono diventare 336 oppure se partiamo da qui, saremo già arrivati a 332, saremo solo 4 giorni al massimo di salita prima di iniziare o una finta, ve la disegno, a ribasso con rialzo e poi finalmente discesa quindi una M, una W capovolta sostanzialmente oppure direttamente discesa. Una discesa che finalmente avrà una certa importanza perché? Perché al contempo andremo a chiudere un ciclo semestrale lato indice. Quanto può durare un ciclo semestrale? Al massimo 168 giorni e noi per dire su DAX a quanti siamo, questo è il più facile siamo a 113 e quindi possiamo arrivare fino a 55 giorni sotto un massimo per andare a chiudere appunto in maniera normale un semestrale. Quindi il tempo stringe, giusto? Ribadiamolo, se siamo generosi massimo, anzi se siamo tirati massimo 4 giorni prima di una discesa ok, se siamo nell'ipotesi che ritengo invece più corretta in assoluto massimo ancora 36 che significa fare tutto marzo praticamente tutto aprile iniziare a scendere da maggio in avanti con una discesa canonica, ovvero si fa un massimo e poi si scende. Quindi su DAX abbiamo tra niente, tempo ormai se andiamo a vedere il nuovo mensile inverso si potrebbe almeno farlo arrivare a 24 barre e quindi facciamo almeno il 14-3 e quindi arriviamo poi alla durata massima se partiamo da qui ma l'ipotesi principale è questa, come detto. E al massimo inizio di maggio per iniziare a vedere una discesa corposa uno dirà, beh, caspita, siamo tra marzo e inizio di maggio balla un mezzo e mezzo sì, va bene, ma nella realtà di fatti se iniziamo a vedere una violazione di uno swing ovvero di un minimo di un certo tipo noi sappiamo dire ancora prima se sta iniziando questa discesa forte oppure no quindi io vi sto già dando dei tempi larghi comunque per darvi un avviso che entro fino aprile e maggio la birra finisce e o ci sarà appunto una finta ribasso con di nuovo rialzo e poi finalmente la discesa forte oppure si rischia di iniziare a scendere tra poco anche soltanto, come detto tra sei giorni minimo sei giorni e si può iniziare a scendere su DAX quanti altri video potete vedere in cui vi danno delle date abbastanza precise sì, con dei lassi di tempo anche di un mese e mezzo ma in cui vi dicono che si può iniziare a poi a scendere a meno che non ci sia un raccordo inverso ovvero una finta che comunque si può misurare come tempo tra minimo e massimo esattamente come un annuale inverso perché immediatamente nei video di chi non utilizza l'analisi ciclica o l'evoluta come nel nostro caso si parla di target ah beh, il target è facile sì, si può arrivare a tornare sui 16.285-300 se vogliono tornare sui massimi precedenti sì, ma entro quanto? ci torneranno mai? perché quando si fa trading o quando si gestisce un portafoglio è importante capire quando può iniziare un ribasso di un certo tipo quando non da che livello di prezzi anzi se abbiamo anche livello di prezzi per carità, ancora meglio ma quando è importante giusto? questo per quanto riguarda il DAX andiamo a vedere il MIB che cosa ci racconta il MIB ci racconta che dal massimo assoluto fatto il 5 di gennaio anzi sì il 5 di gennaio quanti giorni sono passati per arrivare fino ad oggi? oggi il 7 di marzo siamo arrivati a 300 giorni esatti su massimo 336 qui non abbiamo le incognite cose particolari o altro quindi entro 36 giorni di borsa aperta quindi di nuovo ritorniamo attorno a fine aprile inizio maggio può iniziare una forte discesa sempre con l'incognita di un raccordo inverso ok da forte discesa si intende comunque anche una perdita di quanto a livello di prezzi per ora per ora se prendiamo il top di adesso e parliamo anche di un 23.6 quindi parliamo di tornare indietro di circa 1.000 dunque facciamo 28.000 sì 1.700 punti di indice MIB o peggio dipenderà dall'intensità della forza dipenderà dal fatto che saremo ritornati dove tra l'altro perché qui avremmo fatto il top a 28.212 e noi a quanto siamo arrivati negli ultimi giorni 28.017 28.212 ve lo faccio rivedere? spero che stiate iniziando a prendere coscienza che manca veramente poco anche ad arrivare a fare un doppio massimo con peraltro tutti i rischi del caso doppio massimo sapete che è una figura di invasione giusto? per questo motivo anche qui il conteggio è molto simile a quello del DAX si può iniziare a scendere quasi quando volete tra virgolette e dentro la fine di aprile ne avremo la certezza più il tempo passa e più rischi ci sono qui peraltro abbiamo un secondo mensile inverso di questo trimestrale inverso di questo semestrale inverso dell'annuale inverso che ha tutte le condizioni per aver chiuso siamo a 34 barre su minimo 24 quindi su MIB potrebbero persino iniziare ad anticipare la discesa abbiamo praticamente tutto quello che ci serve per scendere tranne che per un settimanale inverso che è arrivato solo a dunque con oggi sì che è arrivato a 5 barre su 6 quindi se domani rimane candela verde e facciamo ancora il top dei top da dopodomani si può iniziare a scendere e potremmo avere una discesa tra dopodomani e al massimo inizio di aprile vi piace come informazione? peraltro come detto non è solo questa l'informazione se dovessimo tornare sotto determinati minimi saremmo i primi a dire attenzione perché sta partendo una forte discesa lo vedremo delle candele ok non è soltanto tempo alla cieca tra tre giorni e fine aprile inizio maggio questa è la cosa bella che si vedono i cedimenti sui grafici appena compaiono iniziano ad arrivare le candele rosse le long red per questo motivo su Mib l'allarme è già rosso ok che parli la Fed che parli Powell che cambiano i tassi che riducano che rialzino qualsiasi cosa qualsiasi notizia a noi non interessa molto sappiamo già che siamo in preallerta di discesa perché il tempo stringe al massimo 336 giorni di inverso su quelli che vi ho detto che abbiamo questo per quanto riguarda l'Europa per quanto riguarda invece gli Stati Uniti a che punto siamo e qui a parte che non abbiamo avuto la spinta forte che invece abbiamo avuto in Europa per cui siamo finiti sopra questo massimo in Europa vedete questo massimo ampiamente superato sia su Mib che su DAX incredibilmente questo invece non è stato neanche ancora superato su S&P 500 ma anche qui andiamo a fare il calcolo di cui abbiamo parlato prima siamo già tra l'altro qui arrivati a 272 barre con tutte le condizioni per chiudere un annuale inverso e qui per ora siamo arrivati a 293 massimo 336 anche qui i conti sono abbastanza simili a quelli dei due mercati europei siamo sette candele indietro per dire rispetto al Mib ad esempio e sul Nasdaq sul Nasdaq eccoci qua siamo a 138 barre soltanto sull'ultimo semestrale andiamo a prendere completamente l'annuale inverso iniziato qui sopra sui massimi assoluti e eccoci qua arriviamo a ieri perché ancora oggi non deve ancora aprire qui siamo a 322 giorni 322 giorni con anche in questo caso 322 su 336 con anche in questo caso qui abbiamo la condizione necessaria e sufficiente per aver già chiuso l'annuale inverso e qui potenzialmente stiamo facendo già un raccordo inverso quella finta a ribasso con rialzo di cui vi parlavo sugli altri due mercati temo di sì eccoci qua vi riporto il grafico un po' più pulito e qui tra l'altro come vedete abbiamo già perso una buona forza ma adesso stiamo recuperando e se torneremo qui sopra questo rischia di essere se andremo oltre 336 giorni proprio già quel raccordo quella finta a ribasso con rialzo e poi finalmente inizio di discesa di cui vi parlavo sugli altri due indici europei e anche sull'americano quindi in campana perché per far partire un nuovo mensile mancano ancora solo più tre giorni di borsa aperta su Nasdaq quindi mercoledì giovedì venerdì poi fatti questi tre giorni magari superato anche lo swing per la partenza di un nuovo mensile ciclo mensile questo è stato il primo qui raccordo ovvero finta a rialzo con ribasso e qui potenziale partenza del secondo finiti questi tre giorni se si dovesse iniziare a ritornare qui sotto tutto il movimento del mensile si vincola a ribasso e un mensile come minimo dura 24 giorni in media 32 al massimo 43 giorni ok direi che ho risposto alla domanda fondamentale quando possiamo iniziare a scendere su ogni singolo mercato manca da pochissimi giorni a orientativamente fine al massimo fine aprile inizio maggio mi raccomando quando vedete i primi cedimenti le prime candele lunghe rosse le long black in questo caso long red iniziate a stare in campana perché si può perdere dal 15 al 20 al 30 per cento della capitalizzazione e dei prezzi ok vi ringrazio per il vostro tempo se questo video vi è piaciuto mettete un bel like iscrivetevi al canale perché è totalmente gratuito e se volete capire cosa sono questi cicli andate sempre su youtube nella playlist del canale che si chiama trading days e potete avere un corso gratuito di 7 lezioni 7 da fare tutte per capire un pochino che cosa sono queste tempistiche come si muove il mercato e si muove onde come potete vedere e come è possibile che la stramaggioranza delle analisi che faccio sono corrette e potete andare a vedere uno storico di oltre 6 anni tra qui e anche trading view buona giornata a tutti arrivederci